Narni Scalo è un'edizione speciale del Narnia Terror Night dedicata a Dylan Dogg. Ci saranno delle proiezioni di tre fan film indipendenti dedicati appunto al celebre fumetto. L'organizzazione della resegna è curata dal cineasta ternano Eros Bosi. Ascoltiamolo. Domani sera, ore 21, Arena Via delle Rose di Narni Scalo, di fianco al Parco dei Pini. Ci sarà il Narnia Terror Night, è una nuova edizione, però a differenza delle precedenti sarà interamente dedicata a Dylan Dogg, il celebre fumetto di Ziano Sclavi che tutti conosciamo. Ci sarà una rassegna cinematografica in cui verranno proiettati il Trillo del Diavolo di Roberto D'Antona, Freddy contro Dylan di Dennis Frison e Vittima degli Eventi di Claudio Di Biaggio. Durante la serata ci sarà una mostra al mercato del fumetto e anche uno spazio fumettisti. Essendo un fan di racchiatata del fumetto di Ziano Sclavi, quest'anno mi piaceva organizzare un evento dedicato a Dylan Dogg. Io organizzo da un paio d'anni in area Terror Night, allora ho pensato di fare un'edizione speciale, perché essendo una rassegna dedicata ai film horror indipendenti, su Dylan Dogg ce ne stanno almeno tre. Ed ora lo sport, il calcio è terminata con il punteggio di 9 reti a 0, la partita amichevole disputata ieri tra la Ternana ed il Cascia.